C'è un convento di frati che confina un convento di suore. La carne è carne, la debolezza è debolezza. A un certo punto un frate gli fa una sora. Ma se faccio un bucone da siepe e te ti metti di là e si trova, che dici? E questa dè, ci pensa, ci pensa. Sì, via, via, però così non c'è nessuno, non c'è nessuno. Si chiede, fanno sto bucone con questa siepe. Il giorno dopo si trovano lì, la sora si tira sulla conaca, si mette lì a peora alla siepe e il frate dietro. Tutun, 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 e se la tromba. A un certo punto passa la madre superiore e fa. Ma, sorella grazie, che fa? Madre superiore, con questo caldo, c'è un buco qui nella siepe. Mamma mia, mi si sta bene, arriva un po' d'aria fresca, mi ha un po' d'aria fresca. Mamma mia. Si chiede. Questa rimane un po' perplessa, va via. Il giorno dopo, la madre superiore ha caldo. Gli viene in mente la storia del buco nella siepe con l'aria fresca, si chiede. E appa, e va lì, alla siepe. Si chiede. Si mette lì a buritto. Si tira sulla zona anche lì, si mette lì. E il prete, pensandoci di sia la storia del giorno prima, verga, chi appa va lì, tom, faglielo mette in culo. La madre superiore inizia urla. Si chiede, tutte arrivano. Ma che è successo? Ieri mi hanno detto che col caldo lì veniva l'aria fresca. Ma io c'ho un bruciore al culo!